Direttore, prima domanda su questo ritorno, l'aspetto un po' umorale, emozionale, tornare a lavorare a Pescara. Beh, questo è l'aspetto che più mi interessava. Io quando ci siamo visti ai primi di giugno, più o meno, abbiamo fatto una chiacchierata generale, ci siamo detti delle cose, che c'era la possibilità di tornare a lavorare insieme, fermo restando, lui sapeva i miei obiettivi quali erano, non erano aspetti contrattuali nei confronti del Pescara, non era un aspetto contrattuale, era un aspetto di ripartire in una certa maniera con le idee di calcio, non con i soldi, perché il calcio non deve vivere di soldi, ma deve vivere con le idee, di conoscenza, di competenza. Per me Pescara è stata, da parte del Pesaro, io lo devo ringraziare perché ha pensato forse a una figura come la mia, molto vicino anche alla filosofia sua, perché nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto prima di aver definito un accordo tra me e lui, una cosa mi sono sentito di dirgli e di sentire, lui mi ha dato atto che Pescara nella filosofia di questa società nel 2009 venne costruita su una base di filosofia giovani. E io gli ho detto, negli ultimi 3-4 anni questa filosofia è cambiata, per me è sbagliato, la filosofia non è quella che spendi 10 milioni con i grandi vinci, spendi anche 5 milioni e ci sono i giovani, i vinci e i patrimonializzati. Dipende dalle scelte che fai, naturalmente bisogna partire in silenzio, lavoro che è la cosa più importante, è naturale che non ti nascondo l'emozione, sono molto emozionato, però poi dovrò dimostrare fuori, il campo, io sono una persona che parla poco, sono sempre stato abituato così, di avere rispetto anche nei vostri confronti, di dirvi la verità o non la verità, perché purtroppo le strategie fanno parte del mio mestiere e qualche volta vi dirò la verità, qualche volta vi dirò qualche bugia. 20 giocatori circa sotto contratto, però ha sottolineato il Presidente l'esigenza di dare una ventata di freschezza, è così? Sì, anch'io sono sempre per rinfrescare quando parti con un progetto nuovo, diverso, perché andiamo a vedere se io ho analizzato a casa in questi giorni che dalla sedicesima partita di campionato, Pescara, Lucchese, se non sbaglio, hanno cominciato a giocare i giovani. Questa cosa un po' mi dispiace, non posso pensare che in Serie C dalla sedicesima partita di campionato cominciano a giocare i giovani perché si fa male di Gennaro, gioca a Sorrentino, perché è vero che gli viene considerato dopo, piuttosto che delle mone, che gli altri giocatori, che Chiarella che ha avuto problemi di infortunio. Quest'analisi che ho fatto sinceramente è un'analisi che a me non sta bene, perché io ho la filosofia, giovane, l'età non si chiede, è bravo? Gioca, non è bravo? Non gioca. Grazie.